Questo è il governo più ostile ai lavoratori, motivo per cui noi comunisti faremo una grande manifestazione di popolo contro questo governo il 5 ottobre a Roma, in Piazza dei Santi Apostoli. Lo ha annunciato il segretario generale del Partito Comunista, Marco Rizzo, intervistato dal giornalista Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Ricordiamo che le cose peggiori per i lavoratori sono state fatte dalla sinistra. Quelli di sinistra che pensano che questo governo faccia schifo vengano con noi. D'Alema è favorevole a questo governo? Lui è stato con me nel Partito Comunista. Il problema è che qualcuno resta coerente, qualcun altro un po' meno. Io ero comunista, sono rimasto comunista e sarò comunista. Qua c'è gente che è addirittura pentita di essere comunista, come Fassino e Veltroni, che hanno detto di non essere mai stati comunisti. E chi erano allora? Chi li aveva messi lì? C'è davvero una idea di sinistra che rincorre le banche e i poteri forti. È la sinistra ZTL. È la sinistra che fa sì che la Lega faccia il pieno nei quartieri popolari. Ha aggiunto Rizzo.